Buongiorno, in questo video voglio vedere insieme a voi come si collega un dominio registrato su GoDaddy con un sito Bitrix. Per questo vado su GoDaddy. Entra. Account di Elena. Ecco qua il dominio. Un dominio che è registrato già su GoDaddy. Questi quali compaiono già da subito, i server dei nomi li compaiono già da subito. I nomi server NS81 compaiono già da subito. Adesso devo andare qua a cancellare tutto quello che posso cancellare. Quindi i record CNAME, record A. Vado a cancellarli tutti. E li aggiungo di nuovo. Parto a prendere questi record dal sito. In Bitrix devo andare nei siti. Crea un sito nuovo. E vado a creare un sito nuovo. Le do il nome. In questo caso è Tecnocasa. Punto 24.it Vado in impostazioni. Impostazione sito, non impostazione pagina. E qua mi dice, utilizzerai un, per pubblicare il sito, utilizzerai un'estensione di Bitrix oppure vuoi fare il tuo, usare il tuo dominio. Io gli dico che vuole usare il nostro dominio. E il dominio che vuole usare, il dominio che vuole usare è Tecnocasa. 24.it Appena io li metto questi dati, lui mi dà i record CNAME e i record A. Io parto inserendo il record CNAME in GoDaddy. Quindi per collegare, prendo i dati da Bitrix e vado a inserirli su GoDaddy. Quindi seleziono CNAME, inserisco Tecnocasa.24, prendo il valore. Quindi ho preso host per questo record e prendo anche il valore. Invece di un'ora voglio farlo minimo, quindi aggiornamento minimo che è 600 secondi. E gli dico salva. Questo CNAME l'ho aggiunto, devo aggiungere ancora record A che mi fornisce Bitrix. Record A e Tecnocasa questo. Aggiungi, seleziona record A, prendo il valore di questo record, CTRL C. Le dico di nuovo, tempo di aggiornamento, 600 secondi. Salva. Il gioco è fatto. Tra qualche ora, il sito Tecnocasa.it sarà online con quella pagina che abbiamo visto. Tecnocasa24.it, il nostro sito. Adesso non è ancora online, ma tra poco sarà online. Per oggi è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Prima di salutarvi del tutto, vi faccio vedere quindi come sarà il sito. Il sito è questo, quindi è quello così com'è e andrà online così. Ecco, una cosa che devo fare, devo andare e dire pubblica. Quindi qua devo dirle pubblica. Per oggi è tutto, aspettiamo ancora qualche ora che il sito sia online. A presto.